Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-E. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it